Le certificazioni ottenute da HSD in questi anni rappresentano sicuramente un punto di partenza e non un punto di arrivo. Abbiamo una certificazione matura, la ISO 9001 per la qualità, una certificazione giovane, la ISO 14001 per l'ambiente e una certificazione ottenuta nel 2017, salute e sicurezza dei laboratori. Partendo dalla ISO 9001 per la qualità, possiamo dire che HSD ha interpreso un percorso di crescita volto al miglioramento continuo dei propri processi. Sicuramente il lavoro costante e continuo ha permesso di avere un sistema di gestione efficace ed efficiente, ma soprattutto aderente alla realtà. Abbiamo un sistema operativo fondato su solide basi metodologiche, della componentistica di qualità e anche strumenti di precisione che ci permettono di garantire un elevato standard qualitativo verso i nostri clienti. Nel 2017 abbiamo ottenuto la certificazione ISO 45001 salute e sicurezza, ma HSD si impegna da sempre in un sistema di gestione, ponendo il focus sui propri collaboratori in quanto gli ritiene appunto delle risorse fondamentali per il suo business. Abbiamo lavorato molto sulla formazione, sull'informazione, ma soprattutto sulla sensibilizzazione di tutto il personale, utilizzando metodologie strutturate, ma nello stesso tempo flessibili, che ci hanno permesso di rispondere alle variazioni nel contesto interno ed esterno, socioculturali e anche tecnologiche. La certificazione ISO 14001 per l'ambiente è stato un grosso traguardo per HSD, visto anche questo anno difficile causato dalla pandemia. E questo è dimostrazione del fatto che HSD crede molto in un futuro sostenibile ed ecologico. Abbiamo lavorato partendo dall'analisi e la gestione dei rifiuti, ma ci stiamo spingendo sempre verso progetti sempre più innovativi, che da un lato guardano il contesto globale e dall'altro il contesto aziendale. La sfida è proprio quella di riuscire a coniugare il benessere individuale del lavoratore con quello collettivo, sempre in ottica di tutela dell'ambiente.